Mentre gli addetti ai lavori sono impegnati con il problema della transitabilità aviaria sul ponte Allaro a Caolonia Marina, dove da fine ottobre 2015 è possibile transitare soltanto a un senso alternato e dal 31 agosto è stata interdetta agli automezzi con una portata superiore alle 7,5 tonnellate, continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni e denunce circa lo stato di abbandono dei percorsi circostanti e alternativi. In queste ore infatti c'è giunta una segnalazione riguardante lo stato di abbandono della strada provinciale 88, precisamente dal chilometro 1,500 al chilometro 8. La strada in questione collega Marina di Caolonia a Caolonio Capoluogo con sviluppo di circa 9 chilometri. La mentele che riguardano lo stato in cui versa il tratto è sollevate direttamente da cittadini costretti a percorrerla quotidianamente. Sulla SP88, stando a quanto denunciato, si può facilmente notare presenza insistente di erbacce, sterpagli, arbusti e canneti amboilati. Tutto ciò provocherebbe l'ostruzione della cunetta presente, con conseguente ristagno dell'acqua piovana sulla carreggiata. Non solo, in diversi punti si notano anche buche e cedimenti. I cittadini, allarmati dai pericoli a cui vanno costantemente incontro, essendo costretti ad attraversarla ogni giorno, chiedono così interventi immediati e risolutivi.